Musica Mi riporta dove E ho finito l'altra volta che Havamo fatto una piccola prova quindi Allora noi siamo questa tizia Messaggio in arrivo Ci sei clone 001 Sono Zek se mi senti Tocca lo schermo Grande Senti sei stato inviato Prima del dovuto questo pianeta E' estremamente pericoloso Probabilmente non saprà viverai ok Cerca solo di andare più avanti possibile Muoviti quindi cos'è Shattered Planet Shattered Planet è un gioco Rogelike strategico Generato con i livelli Generati casualmente E In questo gioco Dobbiamo uccidere i mostri E Abbiamo trovato un elmetto E Eccoli qua i mostri dobbiamo ucciderli Ma dobbiamo fare attenzione perché Potrebbero uccidere noi Quindi allora Ah per tutti i granchi Sembra che la fauna locale si stia agitando Difenditi O muori provandoci Ok quindi difendiamoci Moriamo provandoci Wuhu Abbiamo ucciso Il granchio Il granchio Ok E questo primo livello è abbastanza facile Gli altri non lo so Perché non le ho fatte Ho detto non voglio spoilerarmi troppo Un nemico Ah mi ha attaccato alle spalle Ok Gli altri non lo so dato che non c'è giocato Eccolo un altro Mori Mori perfetto E quindi bisogna davvero fare attenzione A dove si va E quando si va Tipo per non rimanere bloccati Poi tipo si può anche aspettare Aspettate Tipo si può restare fermi Facendo avanzare il nemico Ah e qua Possiamo scegliere Se uccidere Un granchio Oppure Portarlo con noi Ah fallito Dannazione Ah Ah no aspetta Ma è andato Bene C'è sta con me Il che ho inchietto Giusto Sì Perché dice che hai fallito Vabbè Ok Mi ha detto fallito Però comunque mi sta seguendo Bah forse perché il tutorial Quindi abbiamo finito il nostro primo livello E adesso passiamo al secondo Dove moriremo Instante Forse non lo so Allora grande Hai raggiunto un teletrasporto Bravo Le cose si faranno molto più difficili Potresti morire Ma non è un problema Giuro Bene Quindi Uh uh Abbiamo sconfitto questi tizi Abbiamo un compagno E Adesso andiamo Nel laboratorio Gli Ender Corps Ok qui Mi son fermato E adesso non so più cosa fare Penso che comunque dovremmo andare Oh Cos'è un mostro? Penso che comunque Oh Cos'è una torretta? Ah Eh ok Mi sa che questa torretta Mi ammazza Si provò a scappare No Ok Qui già c'è il clone 001 Che fu inesperta E che sopravviveva Grazie alla sua orbizia E al suo ingegno Ah Sei stato grande No davvero Credevo saresti morto Due minuti fa Hai perso i tuoi oggetti Ma tranquillo Ne faremo altri Continua così Coraggioso capitano Wuhu Quindi Si Eravamo un clone Come ci aveva detto il tizio E sei tornato sulla nostra bella nave Senza dolore o sporcizia Come nuovo Sto arrivando Dai un'occhiata in giro E quindi Oh Penso che tipo Ogni volta che moriremo Faremo un nuovo clone Roba simile E quindi Non si creperà mai davvero Cos'è sta roba Uh Deposito Questo è il tuo deposito Tutti gli oggetti che crei Saranno tenuti qui Porta sempre qualcosa con te Quando vai sul pianeta E' pericoloso il furi Ok Questo che sei Abbiamo alcune varianti genetiche Tra cui scegliere Ogni tanto puoi cambiare il tuo DNA Uh Quindi posso scegliere la classe Ok Ci sono anche classi aliene Non ancora sbloccate Quindi c'è l'assassino Con diverse facce E poi c'è Questo tizio Allora questo Le pistole hanno più due Eh Della gittata E 50 del danno Ok Questo è un miscuglio Artigiana Di DNA Iniziatto da vari piloti Ah Ok Questo è 10 10 100 Questo pure 10 10 100 Ok Mi sa che questa È migliore Ok Andiamo con Questa tizia Clone 001 Bear 001 Perfetto Vai Quindi adesso sono questa tizia Eh ci prendiamo Difesa 1 8 mente Ok Usiamo questa Uhuh E poi prendiamo la katana 3-4 A shaker Più affilata di un formaggio Di mille anni Ok Ok ci prendiamo la katana E magari anche Uh La vita E la bomba Ok Adesso siamo pronti Per andare a distruggere qualcosa Giusto? Allora Messaggine arrivo Questo è Kaio Il creatore assolutamente Imprevedibile di oggetti Spendi qui i cristalli Per creare nuove armi e armature Tutte le volte che vuoi Ok Quanti cristalli ho? Uh ne ho 40 Ok Facciamo un cristallo d'argento Vediamo che mi fai Kaio Cerca dati Ok Una nuova arma Quindi magari Andando qua Ok Ho attivato il teretrasporto La configurazione del pianeta Ormai sarà cambiata Quando sei pronto Vai sul teretrasporto È il lavoro per cui sei nato Quando morirai Perderai i tuoi oggetti Ma tranquillo Ne faremo altri Ok Quindi questo è migliore della mia 6 10 Oh Paffarbacco Se è migliore della mia Ok No no La voglio Ok E tu Riponi Ok Andiamo con questa Mazza strana Allora Posso andare su questo pianeta Su questo pianeta Su questo pianeta Su questo pianeta Sfida Sfida del giorno Sfida del giorno No ok Niente sfida del giorno Andiamo con Questo Con difficoltà variabile Allora Allora Bo c'è Bon desert E Oh Che c'è Che c'è Sei pronto Bear 001 Ci sono più segreti Su questo pianeta Che l'una Attorno a giove Addirittura Oh Se non fosse il mio amichetto Ah Posso scavare Ok Perfetto Oh Un cattivone Tipo guardate Se aspetto qui Lui si muove Anche se io non mi sto muovendo Vedete Vieni Vieni Bam Ha Ti ho disintegrato Piccolo essere Inutile Oh 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 Via Ah Ok Aspetta Wait Girati Vai attacca 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 Oh perfetto Che cos'è Una portapiaga Ok Uh cos'è sto coso Posso comprare Un Un cappello O una Cazza misteriosa Però non ho servito Ok Andarne a trovare Ok Questo gioco Sembra molto 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 carino Ok Non è che posso rompere Queste rocce Magari trovo qualcosa No Qui non c'è una mazzola Non c'è una mappa Però in giro Tipo Poi cos'è sta roba Oh i nemici hanno difficoltà A notarmi Ha 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 Cos'è Cos'è Questa cosa Ok Ok Quindi quelli sono i bonus Oh mio dio Ok Accidere volina Ok Questo tizio adesso Mi ammazza Posso scavare Ok Adesso non dovrebbero più Essere in grado Di venire qua Vero Ok Usa Non posso più usare Ah Ci vuole il tempo O accedere volina E qua sono già crepato No Arrivano lo stesso Che è sta roba Ah Ok Sperimentiamolo Vai Ah Dovevo lanciaglielo addosso Pensavo fosse tipo Danno ad aria Ah Fuori Fuori Eh Ok Sono sopravvissuto Oh mio dio Che è sta roba Magari mi cura No Devo sperimentare Anche questo Ehm Ho 36 Cosidoro Magari Ah Guardate La corruzione Ah Ah Eh Mi hanno circondato Oh Sono morto Di nuovo Ehm Ok Ho 40 cristalli 38 di questi Così Cos'è questa roba Messaggio in arrivo Il metallo che hai raccolto È ottimo per allenarti E ti dà potenziamenti Permanenti Spendili tutto Ok Quindi posso fare Più forza Più mente Più salute 25 E poi facciamo più mente Yeee Quindi adesso Sono diventato più forte Oh eccolo il tizio Ciao tizio Ciao tizio Ah ok Grazie per avermelo detto Va bene Ehm Proviamo a riequipaggiarci Ehi Hai detto che Avresti fatto nuove robe Vabbè Ne ho mentito Lì non c'è niente E facciamo un'altra cosa D'argento Ho 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 Una motosega Ok Facciamo un'altra ancora E una mazza Ok Non ho nessuna armatura Però quella motosega Qui la voglio posare Eh no 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 Deposita Prendiamo la mazza Questa E la La benda Sono più figo Ok E adesso Andiamo all'attacco Di qua Ehm No non la voglio La sfida del giorno Ok Vai Andiamo a distruggere Questi tizi Una volta e per tutte Fare il tifo per te Dalla nave Vai Bear Ce la puoi fare Ok Ok Ammazza 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 Ma non Odio sta roba Che si fa tipo Corruzione Oh Naggia Mi piace Ok Wait Bam 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 Ok Ok Quel tizio è stato respinto Uh Ho un sacco di slot adesso Anche prima li avevo Non l'ho notato Non li avevo Tipo qualche Ah 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 È caduto Ok Uh Yeah Cristalli Grande E qui c'è il teletrasporto Ok Adesso provo Ad andare un attimo dietro Ad ammazzare qualche altra cosa Oh Sono curioso E E vedere se trovo qualche altra cosa di utile Come questi ferretti E Però appena vedo uno di quei cosi viola Me ne scappo Perché mi fanno sedere Oh La corruzione è arrivata là Ok Prendiamo questo Oh Dai Ho detto che Fruito Sperimentiamolo L'ha curato Ma ti pare C'è C'è Vabbè Ah Scappa 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 un po' di più Scappa E Via Ah Non puoi seguirmi Yeah Abbiamo vinto Che bello Ok Allora Adesso ci curiamo Come di tutto Poi scassiamo Sto coso Che freghiamo I minerali Ma questa Corruzione mi segue Ok Aia Ok Mi sa che questa mazza È parecchio utile Perché tipo Li spinge anche Indietro E magari posso anche Farli cadere Ok Prendiamo sta roba E via Non posso tipo Scavare tutto sto posto Però non c'ho la palla Poi la palla Solo una alla volta Lo fa Ok Sto coso verde Prima mi ha salvato Quindi se la lancio Vai a quel paese Ok Ok Adesso No 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 Basta No 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 Non la voglio usare Esca Come faccio Ok Ok Quindi devo ricordare I colori Ok Quel verde strano Da fuoco Ok Devo ricordare I colori Perché sono sempre uguali Quindi Quel verde Della cura Era un po' più Verde Non lo so Era un verde diverso Anche se io lo ricordavo Verde Però Vuoi saltare No Perché dovrei Ok Vieni qua Bam Hahaha Bam E ti ho ammazzato Perfetto Vieni qua Au Muori Muori Ok Sperimentiamo questo Vai bottiglia marrone Scelgo te Che gli ha fatto È più forte Che cacchio Perché sono più forti Ci manneggia Gli lancio le cose Per uccidere E loro diventano più forti E allora Vediamo cosa c'è qua Uh Magari da Cibo sta cosa Allora da Una pistola E una cassa Però non c'ho i soldi Wow Per uno Non posso prendere Ok La corruzione lì Sta andando parecchio Quindi mi sa che mi conviene Andare a quel paese In un nuovo Posto Quindi Questo Era Wow Che c'è A volte vorrei potermi unire a te E affrontare terre sconosciute Non troppo spesso però Ok Quindi Questo era Sharted Planet Spero che vi sia piaciuto Ringrazio ancora Nia Brucia Le fiamme dell'inferno Ringrazio ancora Nia Per avermi regalato il gioco E ha ucciso Un cacciatore Delle tribù Ok Cos'è Uh Questo mi serve Fatemelo prendere Please Ok Via La bottiglia Gialla Ok Non è morto Bebe Quindi Grazie ancora Per aver visto questo video Ancora ringrazio Nia Per avermi regalato questo gioco E se volete comprare Sharted Planet Trovate il link in descrizione Su Steam E quindi Ancora Grazie per aver visto questo video E ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ehi Se questo video vi è piaciuto Fatemelo sapere tramite un like E un commento Ma non per quella cosa Un milione di like O sono i più figli di tutti Oh yeah Ma semplicemente perché così capisco Se una cosa vi piace Oppure meno E grazie per aver visto questo video Ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 a tutti Ciao a tutti